Quest'anno sono ancora qua come organizzatore soprattutto, poi vediamo anche se come corridore, come atleta la forma c'è e speriamo di ripetersi anche quest'anno. Credo che senza altro questa giornata limpida e questo panorama sarà di sicuro di buon auspicio anche per il morale se non altro. Sono organizzatore di una tappa successiva di Gironordic che sarà quella sull'oro del Corlo, sarà il volontino, dare un occhio. Oggi è un pochino tipo il primo giorno di scuola, ti rivedi dopo l'estate e c'è un po' questa emozione quindi più che altro divertirmi, stare con loro e poi giustamente mettersi alla prova a livello personale tutte le volte e poi come va là. 25 aprile ormai si avvicinano e si ha la macchina organizzativa in moto, è in funzione del nostro sito www.duerocke.com dove potete iscrivervi alle nostre vari percorsi. Abbiamo appunto diverse opzioni da offrire ai nostri atleti, ai nostri appassionati di corsa e camminata. Abbiamo una coreografia molto bella oggi con oltre 500 persone tra running e nordic walking. Nel nordic walking supereremo le 200 unità tra i competitori e i camminatori turistici, in questa maniera possiamo definirli. Ed è una bella soddisfazione in un circuito che inizia con delle belle prospettive, con sei tappe che perdureranno fino a fine di ottobre. Siamo contenti quest'anno, il sole bacia cesio, l'anno scorso eravamo partiti con la neve. Cosa altro dire? Un grazie a tutti quelli che stanno lavorando perché tutto questo possa accadere molte domeniche l'anno. Uno, tre, due, uno, partiti! Uno, tre, due, uno, partiti! La nostra filosofia è quella di riproporre la stessa tipologia di percorso che un qualsiasi camminatore fa durante le sue uscite settimanali. proprio una novità, quella di Arsie. Sì, Arsie è sul lago del Pollo, fantastica. L'appuntamento, chiedo, anzi, suggerisco a tutti di venire, di partecipare perché è un'allocation unica. Chiunque è stato e chiunque si può confermare che girare attorno al lago, su quel lago là, che sembra un lago, un fiordo norvegese, da come è messo, vale la pena solo per fare il giro del lago. Grazie. 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 Grazie.